Malvezzi quotidiani, l'economia umanistica spiegata bene. Il tasso del 3% sui depositi si conferma la soglia di neutralità che potrebbe essere superata solo marginalmente, scenario però già ampiamente prezzato dal mercato. In prospettiva, l'inflazione generale potrebbe calare mentre quella core potrebbe intraprendere lo stesso percorso dopo aver prima attraversato una fase laterale di 3 mesi, probabilmente intorno al 5%. In questo scenario arriviamo a giugno, quando la BCE potrebbe avere ultimato il processo di rialzo dei tassi prima di prendersi una pausa estiva. In prospettiva, quindi, verrebbe confermato lo scenario di progressivo calo dei tassi nel medio e lungo termine e uno scenario di almeno 1,5% in termini di Bund e 3,25% sul BTP per fine anno, cioè buono del tesoro pluriannale italiano e titolo di Stato decennale tedesco. In quest'ultimo anno di scelte inappropriate, quindi, abbiamo assistito al solito approccio della Lagarde basato sul consenso, cercando di trovare il bilanciamento tra istanze di Falchi e Colombe, ponendosi come arbitro piuttosto che come decision maker. A me pare che ricordi la figura storica di un certo Ponzio Pilato. E tutto questo non fa bene all'economia, non fa bene all'economia perché, vedete, questi signori stanno trascurando il fatto che quando c'è un aumento dei prezzi delle materie prime, le imprese, vedete, possono decidere o di scaricare immediatamente sul mercato la questione, cioè sui consumatori, oppure potrebbero decidere di acquisire quote di mercato e, diciamo così, rimandare nel medio e lungo termine gli interessi, gli affari, i guadagni. Peccato che nel medio e lungo termine questo conduce ad una situazione di rialzo del costo del denaro, cioè si inneschi una spirale, diciamo così, inflattiva, per cui le manovre della BCE sono francamente manovre che peggiorano la situazione invece che migliorare la situazione. Cioè è paradossale, ma la Banca Centrale Europea, se seguirà l'inflazione americana, che ha tutte altre ordini di ragioni e le politiche americane, che sono completamente diverse dalle nostre, ecco, si appiattirà anche sul piano economico su una soluzione per noi certamente sbagliata. Buona economia umanistica!